Terra Nuova Bracciolini è uno dei primissimi comuni ad essere libero dall'amianto per quanto riguarda le tubature dell'acqua. I vecchi impianti idrici infatti costruiti in Eternit si trovano ancora in gran parte dei paesi. Terra Nuova invece, grazie ai lavori effettuati negli anni, ha azzerato la presenza di queste tubature, sostituendole con quelle moderne in Ghisa, più resistenti e sicure. È uno dei primi comuni a non avere nessuna tubazione in tal senso di amianto e credo che questo sia un risultato importante. Ce n'è rimasto sostanzialmente l'1,5% delle tubazioni complessive, i lavori si sono svolti in un arco pluriennale, hanno comportato un costo di circa 200 mila euro, però ad oggi con gli ultimi lavori che sono stati eseguiti in via Ciuffena sostanzialmente abbiamo terminato la rimozione delle condutture idriche per l'appunto in amianto. I lavori verranno collaudati entro la fine dell'anno e quindi era un obiettivo che ci eravamo dati ed è stato raggiunto.